Noi abbiamo 13 ospedali, un'area molto dispersa, molto grande e abbiamo bisogno di assicurare il teleconsulto, la televisita a distanza perché il paziente non sia costretto a prendere la macchina o l'ambulanza, sono anche costi insomma, ma abbia il teleconsulto dello specialista idoneo per quella patologia. L'Istituto Superiore di Sanità sceglie l'ASL Toscana Sud-Est per la prima esperienza a livello nazionale di telemedicina che prenderà il via il prossimo giugno, intanto la firma ufficiale del progetto che potrebbe diventare un modello da esportare in tutta Italia. Perché la scelta dell'ASL Toscana Sud-Est come prima esperienza nazionale? Perché è un ASL particolarmente eccellente che ha fatto esperienze avanzate nel campo anche territoriale ma di collegamento tra l'ospedale e per il modello a rete assolutamente originale che ha impostato, quindi qui potremo costruire un prototipo importante per poter poi esportare a livello nazionale. Il progetto avrà la durata di 18 mesi e prenderà il via con l'individuazione di due presidi ospedalieri che faranno da apripista. Sia nelle case della salute, sia negli ospedali territoriali, sia a domicilio. Ci sono varie iniziative che porteremo avanti con questo progetto su tutti e tre gli ambiti, quindi la rete fra gli ospedali e la parte di rete di supporto a domicilio del cronico essenzialmente. Si usano i sistemi di telecomunicazioni opportunamente assemblati insieme a macchine digitali che siano in grado di fornire una serie di indicazioni, di dati, di informazioni e di consentire anche a due medici o a più medici di essere presenti nello stesso luogo dove c'è il malato anche se essi sono in realtà a distanza tra di loro. Si scorciano i tempi con questo sistema? Fino a zero. Una delle caratteristiche della medicina è che abbatte i tempi fino quasi allo zero perché non c'è più il tempo di trasferimento di una persona da un punto all'altro.